Ciao da Absim! Prima di parlare dell'argomento del video parliamo di Gamsgo, una piattaforma molto utile per ognuno di voi per risparmiare sui vostri abbonamenti. Netflix, Disney+, Paramount+, c'è veramente tutto quello che vi serve, anche YouTube, anche Spotify. Si sfrutta infatti l'abbonamento condiviso, l'abbonamento quindi per più persone tramite un codice e quindi è possibile risparmiare tanto rispetto all'abbonamento individuale. Ovviamente una procedura assolutamente regolare come potete controllare sul sito e allora andate al primo link nella descrizione sotto questo video proprio per scegliere la piattaforma a cui volete abbonarvi tramite Gamsgo risparmiando parecchi soldi anche con l'abbonamento annuale o semestrale. Inoltre aggiungo anche un codice promo che vi dà il 5% di sconto su Netflix, quindi se volete abbonarvi a Netflix risparmiate, avete anche il 5% di sconto con il codice promo tutto su Gamsgo. Quindi date un'occhiata, cliccate sul link in descrizione e scegliete il vostro abbonamento per risparmiare continuando a godervi tutto l'intrattenimento ma anche piattaforme e servizi utili per il lavoro di cui avete bisogno. E parlando anche di risparmio parliamo allora del mercato dell'Inter con Taremi. Avrei voluto fare già da un po' di tempo questo video, poi sono stato distratto da altre cose e c'erano tante informazioni da andare a prendere. Perché dal mio punto di vista Medi Taremi all'Inter si intreccia con le sorti dei meno esperti. Ecco, Taremi è un meno giovane perché compirà 32 anni a luglio, 18 luglio. Poi ci sono i giovani attaccanti e trequartisti dell'Inter. Allora facciamo questo ragionamento per capire quali sono le mire, gli obiettivi della società nerazzurra in termini di progetto sportivo. Intanto è interessante che si possa parlare di progetto sportivo con una squadra di calcio perché non è sempre così. Ma anche quando si può parlare di progetto sportivo non sempre è qualcosa di convincente. E non sempre si va incontro, non tanto alle richieste e alle esigenze dei tifosi che sono le più varie, ma a qualcosa di convincente poi in termini pratici. Che cos'è una cosa convincente in termini pratici? Bisogna definire il periodo in cui si vuole intervenire, il periodo da osservare. Se è un lungo periodo è chiaro che bisogna naturalmente puntare un po' di più sui giovani, ma cercare di capire quali e quanti di questi giovani siano subito pronti per reggere il gioco dell'Inter, le partite dell'Inter, le esigenze anche pratiche dell'Inter in termini di risultati, quindi in termini di obiettivi. E infatti dall'altra parte la si fa facile a restringere il campo dal lungo periodo al breve periodo. E allora si parla di instant team, si parla di giocatori pronti, si parla di tutto e subito, si parla di giocatori esperti. L'Inter ha lasciato andare Dzeko e ha preso Sanchez e Ornautovic. Per Sanchez è necessario eventualmente il rinnovo. Tra l'altro prende circa 3 milioni, mi sembra, netti. Ma per tutti i dettagli ovviamente andate su Hermes Messaggero Nerazzurro, perché è chiaro, è inutile che magari venite anche da lì. Il buon Hermes, anzi l'ottimo Hermes, sa tutto praticamente dell'Inter con una grandissima precisione. Quindi io posso commettere diverse imprecisioni e diversi errori. E vi chiedo scusa, ma cerco di essere il più preciso e accurato possibile. Mentre per quanto riguarda Arnautovic c'è già il contratto fino al 2025, verrà riscattato, è un obbligo di riscatto mascherato il prestito dal Bologna. Perché basta il primo punto conquistato dall'Inter, come ben sapete dopo il 5 febbraio. Quindi insomma, chiusa la finestra di mercato, il primo punto conquistato dall'Inter e scatterà l'obbligo di riscatto di Arnautovic. Che quindi rimane anche la prossima stagione per Sanchez, è un po' più difficile. E allora, nonostante sia Arnautovic che si è fermato nel corso di questa stagione e aveva fatto pensare ad un anticipo nelle mosse su Taremi. Si era parlato addirittura di Taremi a gennaio. Alla fine dovrebbe, l'anno prossimo, dovrebbero restare. Chiaramente Lautaro e Turam. Per Lautaro si sta parlando di rinnovo. E se ne sta parlando ovviamente con tutte le difficoltà che comporta un rinnovo di contratto importante per un giocatore molto importante. Ma credo che la sensazione di tutti sia che alla fine Lautaro Martinez resterà all'Inter. Diverso invece il discorso Ozyman per dire. Per cui non c'è grosso, secondo me non c'è grossa paura dei tifosi nerazzurri. Perché poi penso sia veramente difficile trovare un tifoso nerazzurro che non voglia Lautaro Martinez, che voglia che se ne vada o a cui non piaccia. Perché davvero è un giocatore che come capitano, come leader tecnico, come leader carismatico, come atteggiamento, come rendimento, si fa amare, si fa piacere veramente da tutti. Un giocatore invidiabile da Lautaro Martinez. Poi ovviamente Turam appena preso e Arnautovic. E poi si deve andare a riempire. Quindi la quarta casella con Taremi. Però parliamo di Satriano, Oristanio, i due Esposito e parliamo anche di Valentin Carboni. Che sono appunto i giovani attaccanti o quasi attaccanti che l'Inter ha nella sua rosa allargata, inclusi anche i prestiti. Intanto si è scelto quindi quest'anno di avere quattro attaccanti che in realtà sono tre, tre e mezzo. Perché tra Sanchez e Arnautovic non ne fanno due, ma ne fanno un po' meno. Uno o un e mezzo come disponibilità, come rendimento, vista anche l'età. E evidentemente si vuole proseguire, faccio questa interpretazione, con un attacco che principalmente abbia oltre quei due, con Turam che ha in maniera eccellente sostituito Lukaku. Turam sta avendo un rendimento impressionante, non tanto come goal assist, ma proprio come gioco, come integrazione nel gioco di Inzaghi. Più due anziani, appunto che sono Arnautovic e sarà Taremi. Ora, nulla da dire su Taremi. Taremi è un attaccante che anche lui è molto interessante tecnicamente. Abbiamo imparato ad apprezzarlo negli anni perché ha giocato anche varie volte contro squadre italiane. Parliamo di un attaccante che ha al momento 86 goal e 53 assist con il Porto. E ha giocato prevalentemente con il Porto, ha giocato anche nel Persepolis. E in questa stagione, adesso è in Coppa d'Asia, ovviamente con l'Iran, ha già giocato quasi 1900 minuti, 24 presenze, 6 goal e 4 assist. Sicuramente è un giocatore palla a terra, sicuramente è un giocatore tecnico, è un giocatore che si sa muovere molto bene negli spazi, che sa aggredire, anche attaccare la profondità, ma dialogare pure con i compagni. Quindi è quel tipo di attaccante che ovviamente con Inzaghi andrebbe benissimo perché è un attaccante che partecipa all'azione, partecipa alla manovra, molto intelligente da Taremi. Ovviamente poi, andando a vedere i dati complessivi di carriera, sicuramente non è il più grande bomber che sia mai esistito, 185 goal in 371 presenze complessive, diciamo, ufficiali della sua carriera, 79 goal nel campionato portoghese, quindi praticamente circa un goal ogni due partite per dire, però anche tanti assist, insomma lo conosciamo, conosciamo quelle che sono le caratteristiche di Taremi, quindi non ci piove sul fatto che possa essere un giocatore molto utile. Facciamo però un passo un attimo, un passo indietro e poi andiamo a parlare dei giovani, perché si sta parlando di Inzaghi poi sostanzialmente. Cioè Inzaghi era fortemente in bilico la scorsa stagione, già di questi periodi e ancora di più nei mesi successivi, diciamo marzo, febbraio-marzo. Adesso è molto meno in dubbio la permanenza di Inzaghi alla fine di questa stagione, però è chiaro che come tutti gli allenatori il futuro solo devono giocare e poi magari anche lui potrebbe dire mi sono stancato, me ne vado. È difficile perché secondo me vuole togliersi ancora tante soddisfazioni e stiamo parlando di uno scudetto che sta in bilico, quindi lo scudetto per Inzaghi sarebbe la prima volta, sarebbe il primo scudetto, tornerebbe a vincere lo scudetto l'Inter, che ovviamente è una cosa fondamentale, non si sono mai nascosti da inizio stagione, è l'obiettivo, il che non vuol dire essere i favoriti. Uno ha l'obiettivo ma non è detto che sia favorito, sono due cose completamente diverse che solo disapplicando la normale intelligenza umana possono diventare la stessa cosa, però appunto ci passa tanto tra raggiungere l'obiettivo fondamentale, perché per l'Inter lo scudetto è l'obiettivo fondamentale, e non raggiungerlo. Diciamo che però si sta lavorando in funzione, in questo senso, di Inzaghi. Tarevi dovrebbe firmare un triennale a 4 milioni, 3 milioni netti, che sicuramente sono un investimento comunque importante per un 32 anni, che non è vecchio, attenzione, perché certamente è un giocatore esperto, però a 32 anni come attaccante per le caratteristiche di Tarevi puoi ancora dare tanto, puoi ancora segnare tanto e giocare tanto bene. D'altra parte parlando di Inzaghi dobbiamo parlare di Acerbi e soprattutto dobbiamo parlare di Mkhitaryan, quindi attenzione anche a dire è un giocatore finito. Non è un giocatore finito, ci mancherebbe, può dare tantissimo ancora all'Inter per 2-3 anni, che possono essere anche 2-3 anni fondamentali, però il discorso parli di Inzaghi perché appunto si va a parlare di un giocatore esperto, ancora una volta. Inzaghi per me ha valorizzato tanti e ha fatto integrare benissimo anche giocatori che sono arrivati durante la sua gestione. Uno di questi è proprio Mkhitaryan, che è arrivato dopo il primo anno di Inzaghi, se non ricordo male, quindi stiamo parlando di un giocatore fondamentale, ma anche tutti gli altri, tranne qualche eccezione come può essere Aslani. E allora lì parliamo magari dei giovani a cui Inzaghi non dà tantissimo spazio sulle prime. Poi ci sarebbe l'eccezione Bissek, ci sarebbe l'eccezione Bissek, da dire però che forse Bissek aveva da un carattere, un'esperienza già diversa di partenza, infatti quando fu preso io dissi questo è un ottimo acquisto, veramente un giocatore dalle caratteristiche ideali per quello che serve alla difesa dell'Inter. Ma parliamo allora dei giovani. Ora, è difficile parlare nel dettaglio di cinque giocatori. Io comunque sono andato anche un po' a rivedermi le immagini più recenti di come giocano e di come stanno giocando questi cinque ragazzi che sono in prestito dall'Inter. Cominciando con Satriano, Satriano è stato mandato per la seconda volta in prestito al Brest. Era stato in precedenza, nel frattempo tra il primo prestito semestrale e questa stagione era stato mandato in prestito all'Empoli, dove non aveva fatto granché dal punto di vista dei gol, solo due gol e un assist. In realtà neanche tanto in questa stagione perché 18 presenze con un gol e un assist in Ligue 1, due presenze con due gol in Coupe de France. Circa mille minuti, quindi non parliamo neanche di un titolarissimo nel Brest. Squadra che tra l'altro è in questo momento, ecco devo controllare la classifica del Brest solo per curiosità, è al terzo posto e quindi comunque sta facendo un buonissimo campionato però non è un titolarissimo, appunto Satriano, che però è un giocatore molto interessante per le caratteristiche appunto dell'Inter. Parliamo appunto di un uruguaiano, 20 febbraio 2021, quindi sta per compiere 23 anni, bisognerebbe prendere una decisione appunto su di lui. in questo momento è infatti lui in prestito secco, quindi dovrebbe rientrare all'Inter alla fine di questa stagione e bisognerà fare una valutazione. Si tratta di un giocatore che dal punto di vista delle caratteristiche, per quello che ricordo, è un giocatore molto abile comunque nel muoversi negli spazi, in campo aperto, buon tiro più che altro dalla distanza, anche molto bravo nell'uno contro uno, buon dialogo con il centrocampista che è una cosa fondamentale per gli attaccanti dell'Inter e per gli attaccanti di Inzaghi diciamo che magari non è in questo momento nulla di straordinario però ha delle buone caratteristiche tecniche, palla a terra, delle buone caratteristiche anche di movimento anche a livello fisico, comunque nei duelli, quindi un giocatore che come caratteristiche potrebbe essere, e di fatto è, una punta centrale e quindi potrebbe essere sfruttato in questo senso diciamo come nella casella Turam rispetto alla casella Lautaro Martinez perché qua sono quelle due caselle e appunto bisognerà valutare per Satriano non mi pare in questo momento ci siano delle offerte o ci siano discorsi di mercato quindi sta proseguendo la stagione al Brest e magari cercando di fare anche meglio rispetto a questi tre gol e un assist in queste circa 20 presenze molto più chiacchierato invece Valentin Carboni anche perché è più in vista qui da noi perché gioca nel Monza e Carboni ha sempre fatto solo le giovanili dell'Inter poi questa scorsa estate è stato mandato in prestito anche perché parliamo di un giocatore che il 5 marzo farà 19 anni quindi comunque non poteva chiaramente, non era scontato che avesse una lunga esperienza di giri di prestiti no, è stato invece alle giovanili ed è veramente un giocatore forte Valentin Carboni è un giocatore forte, è un giocatore che ha 15 presenze con 2 gol e 3 assist che sono pochi però ha fatto meno di 500 minuti anche perché ha avuto un po' di problemi fisici all'inizio Palladino lo faceva giocare pochissimo adesso sta iniziando a fare un po' più di minuti e di recente infatti ha fatto proprio contro l'Inter tra l'altro oltre che contro il Frosinone ben due partite consecutive da 90 minuti quindi si sta iniziando a dargli spazio le caratteristiche di Valentin Carboni sono soprattutto quelle anche in questo caso di buonissimo giocatore anche come intelligenza parliamo non di un attaccante, ovviamente un trequartista quindi è un giocatore che naturalmente è portato al raccordo è portato al dialogo con i compagni nella costruzione però è un giocatore che sa aprire il gioco che sa anche muoversi negli spazi che sa quindi andare anche in profondità centralmente che sa supportare la manovra con la rifinitura anche abbastanza bravo nel recuperare il pallone abbastanza bravo nel recuperare il pallone sicuramente può migliorare dal punto di vista della tenuta fisica però mi sembra un giocatore caratterizzato da buonissima intelligenza anche la capacità di proiettarsi in area di rigore per il gol quindi è quel tipo di giocatore che potremmo inserire nella casella Lautaro Martinez però è chiaro che se su Satriano si devono prendere delle decisioni se non sono già state prese su Valentin Carboni no perché la prossima stagione Valentin Carboni potrebbe fare anche un altro anno di prestito e quindi Taremi in questo senso non sposta però è anche giusto tenere presente che un giocatore forte l'Inter ce l'ha in casa e lo deve valorizzare e dovrà poi decidere se integrarlo nella prima squadra o meno stesso discorso o meglio simile per Sebastiano Esposito perché a luglio invece compirà 22 anni Sebastiano Esposito ha avuto periodi negativi in prestito esperienze negative in prestito soprattutto al Basilea e all'Underlecht in particolare all'Underlecht almeno al Basilea 7 gol e 9 assist in 34 presenze poi è passato anche attraverso Spal e Bari quindi tanti prestiti adesso è alla Sampdoria all'inizio Pirlo non lo faceva giocare molto poi ha iniziato a carburare ed è diventato fondamentale e quello che sta facendo vedere Sebastiano Esposito in questa stagione di Serie B è veramente molto molto interessante 15 presenze, 5 gol e 3 assist quasi 1200 minuti e diciamo che in questo momento tra questi ragazzi qui Sebastiano Esposito è il giocatore più indicato per diventare diciamo il nuovo Lautaro Martinez ma neanche perché comunque non c'è questa grandissima differenza d'età però per andare a ricoprire quel ruolo in quella casella lì perché parliamo di un attaccante anche seconda punta punta centrale seconda punta che è bravissimo soprattutto nelle sponde nel dialogo quindi con i compagni per far salire la squadra veramente molto bravo anche a trovare geometrie sia in campo aperto che nello stretto sia in campo aperto che nello stretto piede preferito destro ma ha fatto anche gol fantastici con il sinistro nella Samp di Pirlo e quindi anche qui poi prima o poi Sebastiano Esposito che era stato lanciato precocemente da Conte nel 2019 ricordiamo quel rigore lasciato da Lukaku arriverà il momento in cui si dovrà decidere se integrarlo nella prima squadra stabilmente o continuare a mandarlo in prestito forse è borderline rispetto tra Satriano e Carboni perché Sebastiano Esposito un altro anno di prestito forse potrebbe anche farlo soprattutto per capire se quello che sta facendo vedere in serie B è ancora valido e in che misura in serie A però è chiaro che siamo di fronte alla maturazione definitiva di un ragazzo che è sempre stato molto interessante chiudendo velocemente con Oristanio e Francesco Pio Esposito, fratello di Sebastiano Oristanio al Cagliari un'ottima stagione fino a questo momento 20 presenze, 2 gol e 1 assist in circa 1000 minuti per quello che comunque non è prettamente un attaccante ma sa fare anche la punta centrale è per lo più un esterno destro ed è quello che mi piace molto di Oristanio è la capacità di costruire è molto intelligente nel muoversi in campo nell'andare anche a costruire in verticale quindi con sovrapposizioni centrali sovrapposizioni interne con tagli centrali oltre a tenere naturalmente l'ampiezza e quindi nella costruzione è un ottimo punto di riferimento per il Cagliari di Ranieri ora è infortunato però ha giocato tanto quasi mai 90 minuti però è stato prevalentemente titolare giocando ovviamente anche in Coppa Italia e tra l'altro anche qualificazione agli europei gioca anche nell'under 21 a parte qualche infortunio era stato già precedentemente in prestito per il resto anche lui è cresciuto sostanzialmente nelle giovanili dell'Inter e a settembre coprirà 22 anni quindi anche su Oristanio bisogna prendere una decisione solo che Oristanio è un po' diverso come ragionamento perché alla fine potrebbe quasi anche svilupparsi per quanto non abbia le caratteristiche per l'Inter come una mezzala in qualche modo cioè qualche ma qualche affinità ci potrebbe quasi essere nel come gioca Oristanio e come gioca Frattesi però come ritmi diversi gamba diversa e visione di gioco sicuramente diversa però magari più alla Mkhitaryan Ecco Oristanio potrebbe quasi avere uno sviluppo alla Mkhitaryan perché ce lo vedo poco poi nell'attacco nei due d'attacco dell'Inter sempre ragionando con Inzaki che resta in panchina infine Francesco Piesposito che è l'unico è quello su cui probabilmente c'è meno fretta perché 28 giugno 2005 quindi compirà 19 anni in questo momento è allo Spezia dove sta giocando tantissimo è praticamente un titolare sta facendo partite da 90 minuti consecutivamente 22 presenze però solo due gol in quasi 1300 minuti anche lui titolarissimo oppure negli europei under 21 la qualificazione europea nella nazionale italiana under 21 è uno dei tre fratelli Esposito e effettivamente forse è il più interessante ma parliamo per lo più di un attaccante centrale che deve soprattutto migliorare non tanto nella robustezza fisica perché io non sono un tipo da giocatore che deve per forza avere i muscoli ma nella tenuta fisica nei duelli perché su quello anche negli uno contro uno nel trovarsi lo spazio pulito di tiro sicuramente può migliorare però come il fratello è molto bravo nelle sponde far salire la squadra dialogare con il centrocampista giocare quindi spalle alla porta giocare di prima che sono le caratteristiche prettamente in maggiore evidenza di Sebastiano Esposito quindi sintetizzando bisogna secondo me va benissimo Taremi Valentin Carboni si può valutare come anticipazione di rientro alla base per sostanzialmente farne un giocatore comunque utile se non titolare ma molto utile credo che invece Sebastiano Esposito sarebbe forse già pronto Valentin Carboni sarebbe un'anticipazione sarebbe un azzardo Sebastiano Esposito invece si potrebbe proprio prendere però c'è il discorso passaggio serie B serie A mentre Satriano può darsi che lo si possa anche lasciar partire a proposito non ho controllato ecco per esempio il contratto di Satriano un attimo per capire la scadenza naturalmente con il Brest a fine a fine 2027 con l'Inter quindi comunque si dovrebbe decidere cosa fare magari Satriano si potrebbe cedere Oristanio Oristanio si potrebbe anche lui rimandare nuovamente in prestito però qui in effetti ecco c'è il diritto di riscatto con contro riscatto per quanto riguarda il Cagliari quindi magari la situazione lì è già definita e intanto però arrivano offerte per Valentin Carboni cosa che avevo dimenticato di dire prima ma avevo detto che era molto chiacchierato e sembra che l'Inter abbia detto no categorico ad offerte dalla Premier League per Valentin Carboni si parla comunque di una quindicina di milioni da parte del Guestam offerta confermata non confermata fatto sta che l'Inter non sembra intenzionata a privarsi adesso di Valentin Carboni e io sarei d'accordo con questo tipo di con questo tipo di intenzione perché è un giocatore che può ancora acquisire tanto valore su cui si può ancora tanto lavorare e potrebbe anche passare proprio per l'Inter prima squadra per dare il suo contributo nelle prossime stagioni però è interessante che è importante dire che c'è comunque un interesse dalla Premier League per un giocatore in questo momento in prestito al Monza che si sta muovendo molto bene non so se questo video vi percepite che abbia senso ma è una disamina ampia sull'attacco dell'Inter attuale e futuro ci ho messo quello che so non essendo tanto addentro perché ovviamente per anni ho seguito quasi esclusivamente la Juve quindi tante cose me le sono perse non ho quel background però cerchiamo di costruirlo piano piano e quindi grazie per l'attenzione buon dibattito nei commenti sull'attacco dell'Inter Taremi i rinnovi e i giovani e quindi di conseguenza anche la permanenza di Inzaghi eventualmente il dibattito se volete prosegue sul mio server Discord trovate il link in descrizione con tante chat per parlare di calcio e ci sono anche gli spazi dedicati all'Inter e al calcio mercato mettete like al video iscrivetevi attivate le notifiche per guardare anche i prossimi contenuti se non l'avete ancora fatto e abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi nella community in live sul canale poi seguitemi anche su Avsimout il mio secondo canale YouTube dai link in descrizione ma vi ricordo primo link in descrizione Gamsgo per risparmiare i suoi vostri abbonamenti ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti Grazie a tutti.